ah non sei passato in mezzo non significa se è vicino o pressionante guarda non si traccia in cima neanche niente ma proprio niente non si traccia in mezzo mamma mia non c'è modo non si traccia in mezzo oggi questo non lo provo cioè è anche bello ma no che poi è una cazzata perché è tutto accompagnato comunque vedi che l'hanno fatto eh perché questi li hanno messi due eh uno e due non c'erano ci sono anche i reperti eh ciao porca miseria ok no vabbè ma da cazzo ma da qua ok non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano non c'erano questo qua era pieno eh qua c'era dentro un paio di zone sopra lì anche abbiamo provato anche a fare questo qua di sasso poi abbiamo messo giù la zona tre di cuore facciamo il pezzetto e poi saltiamo fuori ai tempi d'oro non c'erano dai che questa forse è la parte più facile perché se li dai forte sotto basta, salti fuori eh vedi guarda dove sono andati guarda hanno fatto questo e quindi qualcuno poi sono usciti qua sono usciti qua si è più è più bravo a cadere comunque da quando abbiamo tirato abbiamo messo di questo qua si è più livellato prima era più profondo e da quando abbiamo messo questo cacchio non c'è un cacchio se ce la troviamo la troviamo di sopra anche la settimana scorsa sotto la terra il giardino la settimana scorsa da noi ha fatto tutto il minifragio si è allagata pure la cantina figa ma c'è un problema figaro e cazzarola hai visto a me o non è fatto il primo colpo no magari non sono appoggiato io giusto questo lo tiro via è tanta servizio aspetta aspetta oh non sono più capace no no è possibile cazzo ormai ho imparato accendere il monte attesa basta insomma quasi o riconosce c'è l'antifurto questo dobbiamo toglierlo Pietro questo guarda è già via no questo glielo metto a spampi questo questo glielo mettiamo qua a spampi Pietro guarda spampi è è è è è è è mi sa che ti incastri in tutti i busti sentito la mia andiamo vai e fino a sopra la casetta vai un po' accelerata se c'è la marcia togli se c'è la montella e voi mori dentro le marcia non esco le marcia sceglie 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 la cantea morbido bravo se non lo è riuscito a incastrarla non lo è riuscito a incastrarla